Buongiorno. La situazione economica mondiale sta migliorando. Sta migliorando sia in America che in Europa. Questa è la buona notizia. Si vede anche che per quanto riguarda le economie emergenti la situazione non è così favorevole. Sappiamo che è dovuto alla transizione che sta mettendo in piedi il governo cinese e la crescita in Cina sta andando più in giù. Rimane a un alto livello ma sta andando in giù. Dovuto a dei problemi strutturali delle economie come il tipo il Brasil o l'India stanno soffrendo in termini di crescita a medio termine. Ma globalmente in un ambiente dove non c'è inflazione per questi paesi occidentali e dove la situazione sta migliorando a livello della crescita abbiamo globalmente un miglioramento dell'economia mondiale. Cosa significa sui mercati finanziari questo andamento economico? Abbiamo visto sulle ultime settimane che i mercati sia azionari che obbligazionari sono stati molto preoccupati dall'andamento dei tassi o piuttosto dall'andamento delle anticipazioni per quanto riguardano le prossime mosse dalla parte della Banca centrale americana. Si sa, e lo crediamo anche, che la BCE, la Banca centrale europea, non toccherà i tassi per a lungo e che il quantitative easing rimarrà almeno fino a settembre 2016. Invece, per quanto riguarda la Federal Reserve, l'anticipazione di sapere quando la Federal Reserve risalirà i suoi tassi è fondamentale. Se uno pensa che questi tassi si alzeranno a giugno o durante l'estate, allora i mercati vanno in giù. È quello che è successo sulle ultime settimane. Invece, se uno come noi pensiamo che i tassi in America si alzeranno piuttosto all'ultimo trimestre di quest'anno, allora i mercati si riprendono. È quello che è successo sugli ultimi giorni di questo periodo. Dunque, lo vedete, c'è una sensibilità all'andamento di cosa farà la Federal Reserve che è fondamentale oggi per spiegare l'andamento dei mercati. E l'abbiamo visto sull'ultimo mese. In termini di politica di investimento, cosa significa questo quadro? Un'economia che sta migliorando senza inflazione, un prezzo del petrolio che si è ripreso e una banca centrale europea che dà della liquidità al mercato, avendo dall'altro sponde dell'Atlantico una Federal Reserve che alzerà i tassi probabilmente al fine di quest'anno. Tutto questo significa che raccomandiamo, continuiamo a raccomandare come asset class più privilegiata l'asset class azionaria. E fra i mercati azionari, la regione che noi preferiamo rimane l'Europa. L'Europa dove sia in termini di valutazione che in termini di attese sugli utili pensiamo che è il mercato che rimarrà con il più grande potenziale di crescita nelle prossime settimane o prossimi mesi di quest'anno. Vi ringrazio per la vostra accolienza e a fra poco.